Una comunità in lutto che si è stretta intorno alla famiglia Petrucci in un lungo e doloroso abbraccio. Ad Agerola tutti conoscevano Sebastiano, detto Sebi, stroncato a soli 18 anni da una meningite fulminante. Il sindaco ha indetto una settimana di silenzio. La notte di Capodanno, vietati botti e festeggiamenti, i cittadini hanno fatto volare centinaia di lanterne cinesi per ricordare la giovane vittima. Ma intanto è corsa in farmacia per reperire antibiotici e vaccini. Nonostante le rassicurazioni dell'ASL, che ha invitato a fare la profilassi solo a chi è stato in contatto stretto con il ragazzo e i suoi familiari, tutti in paese temono il contagio. Soccorsi tutti in farmacia a prendere l'antibiotico, perché la preoccupazione era questa qua, perché non si sapeva. Questo ragazzo, il 25, hanno fatto una festa a Piazza Generala Abitabile. Lui stava in mezzo a 2.000 giovani. C'è stato questo panico con la somministrazione degli antibiotici per la profilassi. Però purtroppo, vabbè, in certi casi non era nemmeno necessario. Diciamo, magari giustificato, perché il panico, soprattutto per chi ha, come me, bambini piccoli, eccetera. Però io le dico, per esempio io stessa non l'ho fatta, non l'ho fatta e non l'ho fatta fare, perché comunque non c'era stato nessun tipo di contatto. L'abbiamo fatto pure noi, perché stiamo a contatto con il pubblico, quindi automaticamente è meglio prevenire. Vabbè, se volete stare tranquilli e volete prendere la compressa, prendetela. Antibiotico? Antibiotico, sì. L'ha fatto fare anche ai suoi familiari? Sì, ma anche perché pure loro stanno a contatto con il pubblico, quindi...